Con il professor Franco Miano, ex presidente nazionale di Azione Cattolica, alla parrocchia di Sant'Antonio di Padova, al Castellammare di Sabbia. Oggi si sono affrontati vari argomenti, tra cui l'impegno del laico nella comunità. Qual è il ruolo oggi di Azione Cattolica sul proscenio delle associazioni? L'Azione Cattolica oggi rappresenta una grande opportunità per la formazione dei laici, prima di tutto, un luogo bello per la formazione di persone di tutte le età. Dai bambini più piccoli fino agli anziani, dai giovani agli adulti, per le persone non sposate, come per le famiglie. Un'Azione Cattolica vissuta bene è una grande opportunità perché ti aiuta a mettere insieme la fede con la vita. Lo sforzo e lo stile dell'Azione Cattolica è proprio questo, farti cogliere l'essenziale della fede, l'essenziale che deriva dal Vangelo, ma nello stesso tempo spingerti a capire che questo essenziale va tradotto nella vita, prima di tutto nella vita quotidiana, quella semplice di ogni giorno che il Signore ti chiama a vivere. E poi naturalmente per alcuni, o comunque in alcuni momenti della vita, che assumono un carattere più straordinario, più eccezionale. Pur volendo, il singolo cittadino che si impegna per il bene comune riesce a vincere le resistenze di gran parte dei cittadini che magari vedono con sospetto e distacco il volontariato? Ogni forma di impegno è come una scommessa. Le scommesse si possono vincere o si possono perdere. Dal punto di vista del cristiano conta la generosità, la disponibilità, l'impegno che uno ci ha messo, il tentativo di cambiare. I semi buoni però anche sul lungo periodo portano frutto, forse non subito, ma nel lungo tempo possono portare frutto. Il singolo cittadino da solo può fare qualcosa e sicuramente dà una grande e bella testimonianza e deve darla. Naturalmente se insieme tutto assume un'altra caratteristica, tutto è più significativo, più forte, perché non sembra il pallino di una persona, ma piuttosto un impegno condiviso, un maturo impegno di corresponsabilità.